Il racconto dell'anticristo di Vladimir Sergeyevich Soloviev Il signor Z, legge, c'era in questo tempo, tra i credenti spiritualisti, un uomo ragguardevole. Molti lo chiamavano superuomo, il quale era lontano dall'infanzia della mente e dall'infanzia del cuore. Egli era ancora giovane, ma grazie al suo genio eccesso, a 33 anni godeva fama di grande pensatore, di scrittore e di riformatore sociale. Cosciente di possedere in sé una grande forza spirituale, era sempre stato un convinto spiritualista e la sua vivida intelligenza gli aveva sempre indicato la verità di ciò a cui si deve credere, il bene. Dio, il Messia Egli credeva in ciò, ma non amava che se stesso. Credeva in Dio, ma nel fondo dell'anima, involontariamente e senza rendersene conto, preferiva se stesso a lui. Credeva nel bene, ma l'occhio dell'eternità, che vede tutto, sapeva che quest'uomo si sarebbe inchinato davanti alla potenza del male, appena appena questa riuscisse a corromperlo, non con l'inganno dei sentimenti e delle basse passioni e nemmeno con la suprema attrattiva del potere, ma solleticando il suo smisurato amor proprio. Del resto, questo amor proprio non era né un istinto incosciente né una folle pretesa. A parte il suo talento eccezionale, la sua bellezza e la sua nobiltà, anche le altissime dimostrazioni di moderazione, di disinteresse e di attiva beneficenza parevano giustificare, a sufficienza, lo sconfinato amor proprio che nutriva per sé il grande spiritualista, la sceta, il filantropo. Se gli si rinfacciava di essere così in abbondanza fornito di doni divini, egli vi scorgeva i segni particolari di un'eccezionale benevolenza dall'alto verso di lui e si considerava come secondo dopodio, il figlio di Dio unico nel suo genere. In una parola egli riconosceva in sé quelle che erano le caratteristiche del Cristo, ma la coscienza della sua alta dignità all'atto pratico non prendeva in lui l'aspetto di un obbligo morale verso Dio e il mondo, ma piuttosto l'aspetto di un diritto e di una superiorità in rapporto agli altri e soprattutto in rapporto al Cristo. Ma non aveva per Cristo una ostilità di principio. Gli riconosceva l'importanza e la dignità di Messia, però con tutta sincerità vedeva in lui soltanto il suo augusto precursore. Per quella mente ottenebrata dall'amor proprio erano inconcepibili l'azione morale del Cristo e la sua assoluta unicità. Egli ragionava così. In questo stadio l'uomo del futuro si presenta ancora in modo ben definito e originale. Considerava il suo rapporto con Cristo alla stessa guisa di Maometto, un uomo retto che non si può accusare di nessuna cattiva intenzione. La preferenza piena di amor proprio che egli fa di se stesso nei confronti del Cristo verrà giustificata da quest'uomo con un ragionamento di questo genere. Il Cristo è stato il riformatore dell'umanità, predicando e manifestando il bene morale nella sua vita. Io invece sono chiamato ad essere il benefattore di quest'umanità, in parte in mandata e in parte incorreggibile. Darò a tutti gli uomini ciò che è loro necessario. Il Cristo, come moralista, ha diviso gli uomini secondo il bene e il male, mentre io li unirò con i benefici che sono ugualmente necessari ai buoni e ai cattivi. Sarò il vero rappresentante di quel Dio che fa sorgere il suo sole e per buoni e per i cattivi, e distribuisce la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Il Cristo ha portato la spada, io porterò la pace. Egli ha minacciato la terra e terribile ultimo giudizio, però l'ultimo giudizio sarò io, e il mio giudizio non sarà solo un giudizio di giustizia, ma anche un giudizio di clemenza. Ci sarà anche la giustizia, ma non una giustizia compensatrice, bensì una giustizia distributiva. Opererò una distinzione fra tutti e a ciascuno darò ciò che gli è necessario. È in questa magnifica disposizione, egli attende un chiaro appello di Dio che lo chiami all'opera della nuova salvezza dell'umanità. Una testimonianza palese e sorprendente che lo dichiare il figlio maggiore, il primo genito, diletto da Dio. Attende e nutre il suo amor proprio con la coscienza delle proprie virtù e delle proprie doti sovrumane. Infatti egli è, come si dice, un uomo di una moralità irreprensibile e di un genio straordinario. Questo giusto, pieno di orgoglio, attende la suprema sanzione per cominciare la propria missione che porterà alla salvezza dell'umanità. Ma è stanco di aspettare. Ha già compiuto trent'anni e altri tre anni trascorrono. Ed ecco gli balena nella mente un pensiero e con un brivido ardente gli penetra fino al midollo delle ossa. E se non fossi io, ma quell'altro, il Galileo, se egli non fosse il mio precursore, ma il vero primo ed ultimo? Però in tal caso dovrebbe essere vivente. Dov'è dunque lui? Se a un tratto mi venisse incontro in questo momento qui, che gli direi? Dovrei inchinarmi davanti a lui come l'ultimo cristiano scimunito e borbottare stupidamente come un qualsiasi cittadino russo Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore. Oppure prostrarmi a terra come una donnetta polacca? Io che sono un genio luminoso, il superuomo? No, mai. E a questo punto, al posto dell'antico ragionevole e freddo rispetto per Dio e per il Cristo, germoglia e si sviluppa nel suo cuore dapprima una specie di timore e poi l'invidia ardente che opprime e contrae tutto il suo essere. Infine, l'odio furioso si impadronisce della sua anima. Sono io, io, non lui. Lui non è tra i viventi e non lo sarà mai. Non è risorto, non è risorto, non è risorto. È marcito, è marcito nel sepolcro, come l'ultima. Con la schiuma alla bocca, avvalsi i convulsi, si lancia fuori dalla sua casa e dal suo giardino e fugge nella notte fonda e buia per un sentiero roccioso. Si placa il suo furore e adesso succede una disperazione arida e pesante come quella delle rocce. Oscura come quella notte, si arresta sull'orlo di un precipizio che cade a picco e ode di lontano il confuso fragore di un torrente che scorre in basso fra le rocce. Un'angoscia intollerabile gli opprime il cuore. A un tratto qualcosa si agita dentro di lui. Lo chiamerò per chiedergli ciò che debbo fare? E nell'oscurità gli appare un volto dolce e triste. Egli ha compassione di me. No, mai. Non è risorto. Non è risorto. E si getta nell'abisso. Ma qualche cosa di elastico, come una colonna d'acqua, lo trattiene sospeso nell'aria. Egli si sente sconvolto come da una scossa elettrica e una forza arcana lo ributta indietro. Per un istante perde la conoscenza e si risveglia in ginocchio, a qualche passo dal precipizio. Davanti a lui si stagliava una figura avvolta in un nebuloso nimbo fosforescente e due occhi gli trapassavano l'anima con un sottile, insopportabile bagliore. Vede quei due occhi penetranti e senza darsi conto, se provenga dal suo intimo o dall'esterno, ode una strana voce sorda, perfettamente contenuta e nello stesso tempo netta, metallica e priva affatto di anima, come quella di un fonografo. E questa voce gli dice «Mio amato figlio, in te riposto tutto il mio affetto, perché non sei ricorso a me? Perché hai onorato l'altro, il cattivo e il padre suo? Io sono Dio e padre tuo, ma quel medicante, il crocefisso, è estraneo a me e a te. Non ho altri figli all'infuori di te, tu sei l'unico, il solo generato, uguale a me. Io ti amo e non esigo nulla da te, così tu sei bello, grande, possente. Compi la tua opera nel tuo nome e non nel mio. Io non provo invidia nei tuoi confronti. Ti amo e non richiedo nulla da parte tua. L'altro, colui che tu consideravi come Dio, ha preteso dal suo figlio obbedienza e un'obbedienza illimitata fino alla morte di croce e sulla croce lui non lo ha soccorso. Io non esigo nulla da te, ma parimenti ti aiuterò. Per amor tuo, per il tuo merito, per la tua eccellenza e per il mio amore puro e disinteressato verso di te, io ti aiuterò. Ricevi il mio spirito. Come prima il mio spirito ti ha generato nella bellezza, così ora ti genera nella forza. A queste parole dello sconosciuto, le labbra del superuomo si sono involontariamente socchiuse. Due occhi penetranti si sono accostati vicinissimi al suo volto ed ha provato la sensazione come se un getto pungente, ghiacciato penetrasse in lui e riempisse tutto il suo essere. E nel medesimo tempo si è sentito pervaso da una forza inaudita, da un vigore, da un'agilità e da un entusiasmo mai provati. In quello stesso istante sono scomparsi a un tratto il fantasma luminoso e i due occhi e qualcosa ha sollevato il superuomo sopra la terra ed un colpo lo ha deposto nel suo giardino. Il giorno dopo, non solo i visitatori del grande uomo, ma perfino i servitori furono stupiti per il suo aspetto particolare, quasi ispirato, ma sarebbero rimasti ancora più colpiti se avessero potuto vedere con quale rapidità e facilità sopranaturali, rinchiuso nel suo studio, egli scriveva la sua celebre opera La via aperta verso la pace e la prosperità universale. I precedenti libri, l'azione sociale del superuomo, avevano incontrato dei severi critici, ancorché essi fossero per la maggior parte soprattutto religiosi e perciò privi di qualsiasi autorità. Infatti, quello di cui parlo è il tempo dell'anticristo. E così pochi erano stati coloro che avevano potuto ascoltare questi critici quando indicavano in tutti gli scritti e in tutti i discorsi dell'uomo del futuro i segni di un amor proprio assolutamente intenso ed eccezionale ed esprimevano dubbi di fronte all'assenza di una vera semplicità di rettitudine e di bontà di cuore. Ma con questa sua nuova opera, egli riuscì ad attirare a sé perfino alcuni che in precedenza erano stati i suoi critici ed avversari. Questo libro, scritto dopo l'avventura dell'abisso, manifesta in lui la potenza di un genio senza precedenti. È qualcosa che abbraccia insieme e mette d'accordo tutte le contraddizioni. Vi si uniscono il nobile rispetto per le tradizioni e i simboli antichi con un vasto e udace radicalismo di esigenze e direttive sociali e politiche e una sconfinata libertà di pensiero con la più profonda comprensione di tutto ciò che è mistico, l'assoluto individualismo con un'ardente dedizione al bene comune, il più elevato idealismo in fatto di principi direttivi con la precisione completa e la vitalità delle soluzioni pratiche. Tutto questo risultava così unito e legato insieme con tale genialità d'arte che ogni singolo pensatore, ogni uomo d'azione poteva facilmente scorgere ed accettare l'insieme soltanto sotto l'angolo particolare del proprio personale punto di vista e questo senza nulla sacrificare della verità in sé stessa, senza levarsi per essa, effettivamente al di sopra del proprio io, senza assolutamente rinunciare di fatto al loro esclusivismo, senza nulla correggere circa gli errori di opinione o di tendenza, senza colmare per nulla possibili lacune. Questo libro meraviglioso è subito tradotto nelle lingue di tutte le nazioni progredite, e anche alcune di quelle arretrate. Per un anno intero, in tutte le parti del mondo, migliaia di giornali sono pieni zeppi della pubblicità, degli editori e dell'entusiasmo dei critici. Edizioni economiche col ritratto dell'autore si diffondono a milioni di esemplari e l'intero mondo civile, a quell'epoca cioè quasi tutto il globo terrestre, si riempie della gloria dell'uomo incomparabile, grande, unico. Nessuno osa ribattere a questo libro che appare a ciascuno come rivelazione della verità integrale. Tutto il passato vi è trattato con così perfetta giustizia, tutto il presente apprezzato con tanta imparzialità, sotto tutti gli aspetti, e il futuro migliore è accostato in modo così evidente e palpabile che ciascuno dice ecco qui ciò di cui abbiamo bisogno, ecco un ideale che non è un'utopia, ecco un progetto che non è una chimera. E il prodigioso scrittore non se lo trascina a tutti, ma ognuno lo trova gradevole e in tal modo si compie la parola del Cristo. Sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accoglierete, un altro verrà nel suo proprio nome e voi l'accoglierete. Infatti per essere accolto bisogna essere piacevole. Veramente alcune pie persone, pur lodando con calore il libro, si stanno a domandare perché mai non vi sia nominato nemmeno una volta il Cristo. Ma altri cristiani ribattono si era dato il Dio. Nei secoli passati tutte le cose sacre sono state rese logore da ogni sorta di zelatori senza vocazione ed ora uno scrittore profondamente religioso deve essere molto circospetto. E visto che il contenuto del libro è permeato dal vero spirito cristiano, dall'amore attivo e dalla benevolenza universale, che volete ancora? Questa risposta fa tornare dall'accordo fra tutti. Poco dopo la pubblicazione della Via Aperta, che fece del suo autore l'uomo più popolare che fosse mai comparso al mondo, si doveva tenere a Berlino l'Assemblea Costituente Internazionale dell'Unione degli Stati d'Europa. Questa unione, istituita dopo una serie di guerre esterne ed interne, collegate con la liberazione dal gioco dei Mongoli e che aveva mutato in modo considerevole la Carta dell'Europa, questa unione era esposta al pericolo di uno scontro, ora non più tra le nazioni, ma tra i partiti politici e sociali. I reggitori della politica generale europea, appartenenti alla potente confraternità dei framassoni, si rendevano conto della carenza di un'autorità generale esecutiva. Raggiunta al prezzo di tanta fatica, l'Unione Europea era ad ogni istante sul punto di disgregarsi. Nel Consiglio dell'Unione o Tribunale Universale non si era raggiunta l'unanimità perché i vari massoni votati alla causa non erano riusciti a impadronirsi di tutti i seggi. I membri indipendenti del Comitato stringevano fra loro degli accordi separati e questo fatto prospettava la minaccia di una nuova guerra. Allora gli adepti decisero di rimettere il potere esecutivo nelle mani di una sola persona, munita dei pieni poteri necessari. Il principale candidato era un membro segreto dell'ordine, l'uomo del futuro. Era l'unica personalità che godesse di una rinomanza universale. Era per professione scienziato nel ramo della balistica e per posizione sociale un ricco capitalista. Per questo aveva potuto annodare ovunque amichevoli relazioni con uomini appartenenti alla finanza e all'esercito. In altri tempi meno civili si sarebbe levata contro di lui la circostanza che la sua origine era coperta da una densa nube d'incertezza. Sua madre, donna di facili costumi, era largamente nota in tutti e due gli emisferi e troppi uomini di diverse condizioni avevano un uguale motivo di ritenerlo loro figlio. Queste circostanze non potevano certo avere alcuna importanza in un secolo così progredito che perfino gli era toccato in sorte di essere l'ultimo. L'uomo del futuro fu eletto presidente a vita degli Stati Uniti d'Europa con la quasi una minuità di suffragi e quando comparve alla tribuna in tutto lo splendore della sua sovrumana giovanile bellezza e della sua forza e con eloquenza ispirata espose il suo programma universale l'assemblea sedotta ed affascinata in uno slancio di entusiasmo decise di conferirgli senza votazione l'onore supremo il titolo di imperatore romano. Il congresso si chiuse fra il tripudio generale e il grande eletto emanò un proclama che cominciava così Popoli della Terra vi do la mia pace e terminava con queste parole Popoli della Terra si sono compiute le promesse l'eterna pace universale è assicurata ogni tentativo di turbarla incontrerà immediatamente una insuperabile resistenza giacché d'ora in poi c'è sulla Terra una potenza centrale più forte di tutte le altre potenze sia prese separatamente che prese insieme questa potenza che nulla può vincere e che prevale su tutti appartiene a me il plenipotenziario l'eletto dell'Europa l'imperatore di tutte le sue forze il diritto internazionale possiede finalmente quella sanzione che fino adesso gli mancava ed ora innanzi nessuna potenza oserà dire guerra quando io dico pace Popoli della Terra la pace sia con voi questo manifesto produsse l'effetto desiderato ovunque fuori dell'Europa specialmente in America sorsero dei forti partiti fautori dell'impero che costrinsero i loro governi ad unirsi a condizioni diverse con gli Stati Uniti e Europa sotto l'autorità suprema dell'imperatore romano qua e là in Asia e in Africa rimanevano ancora delle tribù e dei sovrani indipendenti l'imperatore con un esercito poco numeroso ma scelto formato da truppe russe tedesche polacche ungheresi e turche compie una passeggiata militare dall'Asia orientale fino al Marocco e senza grande sfargimento di sangue sottomette tutti i recalcitranti in tutte le regioni di queste due parti del mondo egli nomina dei governatori presi tra i magnati indigeni educati all'Europea e a lui devoti in tutti i paesi pagani la popolazione abbagliata ed affascinata ne fa una divinità superiore in un anno egli fonda la monarchia universale nel senso vero e proprio della parola i germi della guerra vengono estirpati fin dalla radice la lega universale della pace si riunisce per l'ultima volta pronuncia un entusiastico panegirico per il grande fondatore della pace e poi si scioglie non avendo più ragione di esistere nel secondo anno di regno l'imperatore romano e universale emette un nuovo proclama popoli della terra io vi ho promesso la pace e ve l'ho data ma la pace è bella soltanto con la prosperità colui che nella pace è minacciato dai mali e dalla miseria non ha che una pace senza gioia venite dunque ora a me tutti voi che avete fame e freddo che io vi sazierò e vi riscalderò e poi annuncia la semplice completa riforma sociale che aveva già tracciata nel suo libro e aveva ormai affascinato tutti gli spiriti nobili e sensati ora grazie alla concentrazione nelle sue mani di tutte le finanze del mondo e di colossali proprietà fondiarie egli potè realizzare questa riforma venendo incontro ai desideri dei poveri senza scontentare in modo sensibili e ricchi ciascuno cominciò a ricevere secondo le sue capacità il nuovo padrone della terra era anzitutto un filantropo pieno di compassione e non solo amico degli uomini ma anche amico degli animali personalmente era vegetariano proibì la vivisezione e sottopose i mattatoi a una severa sorveglianza le società protettrici degli animali furono da lui incoraggiate in tutti i modi la più importante di queste sue opere fu la solida instaurazione in tutta l'umanità dell'uguaglianza che risulta essere la più essenziale l'uguaglianza della sazietà generale questo evento si compì nel secondo anno del suo regno la questione sociale e economica fu definitivamente risolta ma se la sazietà costituisce il primo interesse per chi ha fame per quelli che sono sazi sorge il desiderio di qualche cosa d'altro perfino gli animali quando sono sazi vogliono di solito dormire ma anche divertirsi tanto più l'umanità che sempre post pane ha reclamato circenses l'imperatore super uomo comprende bene che cosa occorre per le moltitudini a lui sottoposte in quel tempo giunge in Roma a lui dall'estremo oriente un grande operatore di miracoli circondato da una fitta nube di strane avventure e di bizzarri racconti fiaveschi questo operatore di miracoli si chiamava Apollonio era senza alcun dubbio un uomo di genio metà asiatico metà europeo vescovo cattolico in partibus infidelium riuniva in sé in modo meraviglioso il possesso delle conclusioni più recenti e delle applicazioni tecniche della scienza occidentale con la conoscenza e la capacità di servizi di tutto ciò che è veramente fondato e importante nel misticismo dell'oriente strabilianti saranno i risultati di una combinazione di tal genere Apollonio giunge fra l'altro all'arte mezzo scientifica e mezzo magica di captare e di guidare a propria volontà l'elettricità dell'atmosfera e fra il popolo si dice che egli fa riscendere il fuoco dal cielo del resto pur colpendo l'immaginazione della folla con svariati inauditi prodigi non è sceso ancora ad abusare della propria potenza per scopi particolari così ecco che quest'uomo viene incontro al grande imperatore lo saluta chiamandolo vero figlio di dio e gli dichiara di aver trovato nei libri segreti dell'oriente predizioni che designano direttamente lui l'imperatore come ultimo salvatore che giudicherà l'universo e propone di mettere a suo servizio la propria persona e tutta la propria arte affascinato l'imperatore lo accoglie come un dono del cielo e dopo averlo decorato con titoli fastosi non si separerà mai più da lui e così i popoli della terra colmati di benefici dal loro signore ottengono oltre la pace universale e la generale sazietà anche la possibilità di dilettarsi costantemente con i prodigi e le apparizioni più sorprendenti intanto finisce il terzo anno di regno del superuomo dopo la felice soluzione del problema politico e sociale viene alla ribalta la questione religiosa fu lo stesso imperatore a sollevarla affrontandola anzitutto nei suoi rapporti col cristianesimo questa era la situazione del cristianesimo in quel tempo nonostante una fortissima diminuzione del numero dei suoi fedeli sul tutto globo terrestre non rimanevano più di 45 milioni di cristiani esso si era elevato e reso più compatto moralmente guadagnando in qualità ciò che aveva perduto in numero non si contavano ormai fra i cristiani degli individui che non avessero più per il cristianesimo alcun interesse spirituale le diverse confessioni religiose avevano subito una diminuzione abbastanza similare nel numero dei fedeli cosicché si era approssimativamente mantenuta fra di esse la stessa proporzione numerica di prima per quanto concerne i loro sentimenti reciproci anche se all'inimicizia non era subentrato un ravvicinamento completo quella si era notevolmente addolcita e le opposizioni avevano perduto la loro primitiva asprezza il papato da tempo era stato scacciato da Roma e dopo lunghe peringrazioni aveva trovato un asilo a Pietroburgo alla condizione di non svolgere propaganda nella città e nell'interno del paese il papato si era notevolmente semplificato in Russia senza modificare una sostanza e rigoroso ordinamento dei suoi collegi e dei suoi uffici aveva dovuto rendere maggiormente spirituale il carattere della loro attività e similmente ridurre al minimo la fastosità del suo rituale e delle sue cerimonie molte costumanze strane ed allettanti anche se non erano state abolite formalmente andarono in disuso da sé in tutti gli altri paesi specialmente nell'America del Nord la gerarchia cattolica possedeva ancora molti rappresentanti di forte volontà di infaticabile energia e in una posizione indipendente questi con maggior forza di prima stringevano in pugno l'unità della chiesa cattolica e le conservavano il suo carattere internazionale cosmopolita per quanto concerne il protestantesimo in testa al quale continuava a mantenersi la Germania specie dopo che una parte considereva della chiesa anglicana si era riunita la chiesa cattolica esso si era sbarazzato delle sue tendenze negatrici estreme i cui sostenitori erano passati apertamente all'indifferentismo religioso e all'incredulità nella chiesa evangelica erano rimasti soltanto i sinceri credenti in testa i quali stavano uomini che riunivano in sé una vasta dottrina insieme ad una profonda religiosità e che sempre più rafforzavano in sé l'aspirazione a riprodurre in sé stessi la viva immagine del vero cristianesimo primitivo l'ortodossia russa dopo che gli avvenimenti politici avevano mutato la posizione ufficiale della chiesa aveva perduto molti milioni di sedicenti fedeli adepti solo di nome in compenso provava la gioia di essere unita alla parte migliore dei vecchi credenti e perfino ai seguaci di molte sette animate da uno spirito religioso positivo questa chiesa rinnovata senza aumentare di numero prese a sviluppare le sue forze spirituali che manifestava in particolar modo nella sua lotta interna contro le sette estremiste che si erano moltiplicate tra il popolo e nella società e non esenti da elementi demonieci e satanici durante i primi due anni del nuovo regime tutti i cristiani ancora impauriti e stanchi dalla serie di guerre e rivoluzioni precedenti dimostravano nei riguardi del nuovo sovrano e delle sue pacifiche riforme in parte una benevola aspettativa in parte una decisa simpatia e perfino un ardente entusiasmo ma al terzo anno con la comparsa del grande mago molti ortodossi cattolici ed evangelici cominciarono a provare serie apprensioni e antipatie ci si pose a leggere con maggiore attenzione e a commentare con più vivacità i testi evangelici e apostolici che parlavano del principe di questo mondo e dell'anticristo l'imperatore subdonando da certi indizi che si stava addensando una tempesta decise di mettere le cose in chiaro al più presto al principio del quarto anno di regno egli pubblicò un manifesto indirizzato a tutti i fedeli cristiani di ogni confessione invitandoli a scegliere o nominare dei rappresentanti muniti di pieni poteri in vista di un concilio ecumenico da tenere sotto la sua presidenza la residenza imperiale a quel tempo era stata trasferita da Roma a Gerusalemme la Palestina era allora una provincia autonoma abitata e governata in prevalenza da ebrei Gerusalemme era una città libera diventata in seguito città imperiale i luoghi sacri e cristiani erano rimasti intatti ma sulla vasta piattaforma di Aram es-Sherif partendo da Birkhet Israel e dall'attuale caserma da un lato fino alla moschea di El-Aqsa e alle scuderie di Salomone dall'altro lato si innalzava un enorme edificio che comprendeva oltre a due piccole moschee antiche uno spazioso tempo imperiale destinato all'unione di tutti i culti due fastosi palazzi imperiali con biblioteche musei e dei locali particolari per esperimenti ed esercizi di magia in questo edificio mezzo tempio e mezzo palazzo doveva aprirsi alla data del 14 settembre il concilio ecumenico poiché la confessione evangelica non ha clero nel vero senso della parola i prelati cattolici e ortodossi per dare conforme al desiderio dell'imperatore una certa omogeneità alla rappresentanza di tutte le confessioni della cristianità decisero di permettere che partecipasse al concilio un certo numero di laici noti per la loro pietà e la loro dedizione agli interessi della chiesa e una volta messi i laici non si poteva escludere il basso clero secolare e regolare in tal modo il numero complessivo dei membri del concilio superò i 3.000 ma circa mezzo milione di pellegrini cristiani invasi Gerusalemme e tutta la Palestina fra i membri del concilio tre erano posti in particolare evidenza in primo luogo il papa Pietro II che stava per diritto a capo della sezione cattolica del concilio il suo predecessore era morto mentre era in viaggio per recarsi al concilio e il conclave riunitesi a Damasco aveva letto in animità il cardinale Simone Barionini che aveva assunto il nome di Pietro II proveniva da una povera famiglia della provincia di Napoli ed era diventato famoso come predicatore dell'ordine dei carmilitani e inoltre per aver reso grandi servizi nella lotta contro una setta satanica che si era fermata a Pietroburgo e nei suoi dintorni pervertendo non solo gli ortodossi ma anche i cattolici divenuto arcivesco di Mogilev e in seguito fatto cardinale era già in anticipo designato alla tiara era un uomo di 50 anni di media statura di costituzione robusta di colorito rosso naso adunco folte sopra ciglia era ardente e impetuoso parlava con foga con ampi gesti e trascinava più che non li persuadesse i suoi uditori verso i padroni del mondo il nuovo papa dimostrava diffidenza e antipatia specie dopo il fatto che il defunto pontefice mentre si recava al concilio aveva ceduto alle assistenze dell'imperatore e aveva nominato cardinale l'esotico vescovo Apollonio già cancelliere imperiale e gran mago universale che Pietro riteneva dubbio cattolico ma autentico impostore capo effettivo degli ortodossi benché in forma non ufficiale era lo starez Giovanni assai noto fra il popolo russo benché figurasse ufficialmente come vescovo a riposo egli non viveva in nessun monastero e andava sempre in giro da tutte le parti sul suo conto correvano varie leggende alcuni assicuravano che era Fiodor Kuzmic risorto vale a dire l'imperatore Alessandro morto circa tre secoli prima altri andavano più avanti e affermavano che egli era il vero starez Giovanni cioè l'apostolo di Giovanni il teologo che non era mai morto e si era manifestato apertamente negli ultimi tempi da parte sua egli non diceva nulla circa la sua origine e circa la sua giovinezza era adesso un vecchio di molti anni ma ai tante con la canizia dei capelli ricciuti e della barba che tirava ad una tinta giallastra e perfino verde era di statura alta e corpo magro ma aveva guance piene e leggermente rose occhi vivi e scintillanti è un'espressione dolcemente buonaria nella faccia e nel modo di parlare portava sempre una tunica bianca e un candido mantello a capo della delegazione evangelica del concilio stava l'eruditissimo teologo tedesco professor Ernst Pauli era un vecchietto di bassa statura asciutto con fronte spaziosa naso a guzzo mento rasato e liscio i suoi occhi brillavano di una particolare fiera bonomia ad ogni momento si stropicciava le mani scuoteva la testa aggrottava le ciglia in modo terribile e spingeva in avanti le labbra intanto con occhi sfavillanti pronunciava con voce cupa dei suoi interrotti so nun ja so al so indossava l'abito di cerimonia cravatta bianca e lunga reading goat da pastore con alcune decorazioni l'apertura del concilio fu imponente per due terzi dell'immesso tempio consacrato dall'unione di tutti i culti erano disposte panche e altri sedili per i membri del concilio l'altro terzo era occupato da un alto palco dove oltre al trono dell'imperatore e ad un altro un po' più basso destinato al grande mago egli era infatti cardinale e cancelliere imperiale si trovavano più indietro file di poltrone riservate ai ministri a dignitari di corte e ai segretari di stato ai lati c'erano ancor più lunghe file di poltrone di cui non si conosceva la destinazione nelle tribune si trovavano delle orchestre di musicanti e nella piazza vicina erano schierati due reggimenti della guardia e una batteria per le salve d'onore i membri del concilio avevano già celebrato i loro servizi divini nelle varie chiesi in quanto l'apertura del concilio doveva avere un carattere completamente laico quando l'imperatore fece il suo ingresso insieme al gran mago ed al seguito e l'orchestra attaccò la marcia dall'umanità unita che serviva da inno imperiale e internazionale tutti i membri del concilio si alzarono in piedi e agitando i loro cappelli gridarono tre volte a gran voce viva urrà urrà l'imperatore ritto in piedi accanto al trono tese il braccio con maestosa affabilità e disse con voce sonora e gradevole cristiani di tutte le confessioni miei amatissimi sudditi e fratelli fin dagli inizi del mio regno che l'altissimo abbia detto con opere così meravigliose e gloriose non una volta ho avuto motivo di essere scontento di voi voi avete sempre fatto il vostro dovere secondo fede e coscienza ma questo per me non basta il sincero amore che io provo per voi fratelli amatissimi anera di essere ricambiato voglio che non per senso di dovere ma per un sentimento di amore che viene dal cuore voi mi riconosciate per vostro vero capo in ogni azione intrapresa per il bene dell'umanità e così oltre alle cose che faccio per tutti vorrei darvi un segno di particolare benevolenza cristiani come potrei io rendervi felici che posso darvi non come i miei sudditi ma come i miei correligionari miei fratelli cristiani ditemi ciò che vi sta più a cuore nel cristianesimo affinché io possa dirigere i miei sforzi in questa direzione egli si arrestò ed attese nel tempio correva un brusio soffocato i membri del concilio bisbigliavano tra loro papa pietro gesticolando con calore spiegava qualcosa a quelli che gli stavano attorno il professor paoli scuoteva la testa e faceva schioccare le labbra con accanimento lo starez giovanni piegandosi verso un vescovo d'oriente e un cappuccino suggeriva loro qualcosa con voce sommessa dopo aver atteso qualche minuto l'imperatore si rivolse di nuovo al concilio con lo stesso tono affabile di prima ma in cui risuonava appena un'impercettibile nota di ironia cari cristiani disse comprendo come vi riesca difficile darmi una risposta diretta voglio darvi una mano disgraziatamente da tempo così memorabile voi siete frazionati in sette e partiti diversi che forse tra voi non c'è nemmeno un argomento che susciti la vostra comune simpatia ma se non siete capaci di mettervi d'accordo tra voi spero di mettere d'accordo io tutte le parti dimostrando a tutti il medesimo amore e la medesima sollecitudine per soddisfare la vera aspirazione di ciascuno cari cristiani so che molti fra voi e non gli ultimi hanno più caro di tutto nel cristianesimo con l'autorità spirituale che esso dà ai suoi legittimi rappresentanti e non per loro particolare vantaggio ma senza dubbio per il bene comune poiché su questa autorità si basa il giusto ordine spirituale nonché la disciplina morale indispensabile per tutti cari fratelli cattolici oh come capisco il vostro modo di vedere e come vorrei appoggiare la mia potenza sull'autorità del vostro capo spirituale e perché non crediate che si tratti di lusing di vale parole noi dichiariamo solennemente per nostra autocratica volontà il vescovo supremo di tutti i cattolici il papa romano da questo momento era integrato nel suo seggio di Roma con tutti i diritti e le prerogative di un tempo inerenti a questa condizione e a questa cattedra e che un giorno gli furono conferiti dai nostri predecessori a cominciare da Costantino il Grande ma per questo fratelli cattolici voglio soltanto che dall'intimo del cuore riconosciate in me il vostro unico difensore ed unico protettore coloro che per coscienza e sentimento mi riconoscono tale vengono qui vicino a me e indicava i posti vuoti sul palco con esclamazioni di gioia grazias agimus domine salvum fac magnum imperatore quasi tutti i principi della chiesa cattolica cardinali e vescovi la maggior parte dei credenti laci e più della metà dei monaci salirono sul palco e dopo essersi profondamente inchinati davanti all'imperatore andarono ad occupare le poltrone loro destinate ma giù in mezzo all'assemblea diritto immobile come una statua di marmo il papa Pietro II rimase al suo posto tutti coloro che prima gli stavano intorno ora si mostravano sul palco allora la schiera ormai diradata dei monaci e dei laici che era rimasta in basso si spostò e si strisse attorno a lui in un anello serrato da cui si udiva un mormorio contenuto non prevalebunt non prevalebunt porte inferi guardando con sorpresa il papa immobile l'imperatore alzò di nuovo la voce cari fratelli so che fra voi ci sono di quelli che per i quali le cose più preziosi del cristianesimo sono la sua santa tradizione i vecchi simboli i cantici le preghiere antiche le icone e le cerimonie del culto e in realtà che cosa vi può essere di più prezioso di questo che per un'anima religiosa? sappiate dunque i miei diletti che oggi ho firmato lo statuto e fissato la dotazione di larghi mezzi per il museo universale dell'arqueologia cristiana che verrà fondato nella nostra gloriosa città imperiale di costantinopoli con lo scopo di raccogliere studiare e conservare tutti i monumenti dell'antichità ecclesiastica principalmente quelli della chiesa orientale vi prego poi che domani eleggiate fra voi una commissione con l'incarico di studiare con me le misure da prendere per riavvicinare quanto più possibile i costumi e le usanze della vita attuale alla tradizione e all'istituzione della santa chiesa ortodossa fratelli ortodossi quelli che hanno in cuore questa mia volontà quelli che per intimo sentimento mi possono chiamare loro vero capo e signore vengono qui sopra e la maggior parte dei prelati dell'oriente e del nord la metà dei vecchi credenti e più della metà dei preti dei monaci dei laici ortodossi salirono sul palco e con grida di gioia dando uno sguardo di sfuggita ai cattolici che già vi stavano assisi con area di importanza ma lo starez Giovanni non si mosse dietro un forte sospiro e quando la folla attorno a lui si fu alquanto diradata lasciò il suo banco e andò a sedersi vicino a Papa Pietro e al suo gruppo dietro di lui si avviarono anche tutti gli altri ortodossi che non erano saliti sul palco l'imperatore prese di nuovo a parlare mi sono noti fra voi cari cristiani anche coloro che nel cristianesimo apprezzano più di tutto la personale sicurezza in fatto di verità e la libera ricerca riguardo la scrittura non occorre che mi diffonda su questo che ne penso io voi sapete forse che fin dalla mia prima giovinezza ho scritto sulla critica biblica una voluminosa opera che a quel tempo ha fatto un certo rumore e ha dato inizio alla mia notorità ed ecco che probabilmente ricordo di questo fatto l'università di Tubinga in questi giorni mi ha rivolto la richiesta di accettare la sua laurea ad honorum in dottore in teologia ho ordinato di rispondere che accettavo con gioia e gratitudine e oggi insieme al decreto per la fondazione del museo dell'arqueologia cristiana ho firmato quello che per la creazione di un istituto universale per la libera ricerca della sagra scrittura in tutte le sue parti e da tutti i punti di vista nonché per lo studio di tutte le scienze ausiliarie con un bilancio annuale di un milione e mezzo di marchi quelli di voi che hanno a cuore queste mie sincere disposizioni che con puro sentimento possono riconoscermi per loro capo sovrano vi prego di venire qui accanto al nuovo dottore in teologia e le belle labbra del grande uomo si allungarono lievemente in uno strano sorriso più della metà dei sapienti teologi si mosse verso il palco sia pure con qualche indugio e qualche esitazione tutti i vostri lo sguardo verso il professor Paoli che pareva abbarbicato al suo seggio egli abbassava profondamente il capo curvandosi e contraendosi i sapienti teologi che erano saliti sul palco rimasero confusi anzi uno di esse a un tratto agitò il braccio e saltò giù direttamente in basso accanto alla scala e zoppicando un po' corse a raggiungere il professor Paoli e la minoranza rimasta con lui Paoli sollevò il capo si alzò con un movimento un po' indeciso si diresse verso i banchi rimasti vuoti e accompagnato dei suoi correligionari che avevano tenuto fermo venne con esse a sedersi accanto allo Starez Giovanni al Papa Pietro e ai loro gruppi la grande maggioranza dei membri del concilio si trovava sul palco e vi compresa quasi tutta la gerarchia dell'Oriente e dell'Occidente in basso erano rimasti soltanto tre gruppi di uomini che si erano avvicinati gli uni agli altri e che si stringevano accanto allo Starez Giovanni al Papa Pietro e al Professor Paoli grazie a tutti